Il teatro è l'apertura alla Traiana, qual è il valore aggiunto di questa miscena? Anche il nome stesso, la Traiana, meglio di meglio che qui, voglio dire, un bel paese, mi sembra tranquillo, un ambiente, un'ambientazione bellissima, anzi addirittura, insomma, quasi da entrare sotto voce, perché sopra si può entrare, questo mi sembra sia il posto ideale per fare una cosa, una cosa musica, bellissima, io non lo conoscevo, questo posto lì, da queste parti ci ho girato a confilme, perché era via la fenuta di Morsoglie, proprio se hai vicino una ferina, però io da queste parti, mai passato, è rimasto molto, molto sorpreso e meravigliato e anche contento di essere qui stasera a questa manifestazione.